Cerimonia di consegna delle borse di studio in casa de Bottis. Ieri pomeriggio nella suggestiva cornice di Palazzo Vallelonga, l'evento organizzato e promosso dall'Associazione Exalunni alla presenza degli allievi meritevoli del riconoscimento dei loro genitori e dei docenti dello storico istituto di via generale Carlo Alberto Dallacchiesa. È sempre un'emozione anche se sono, questo è l'ottavo o nono anno credo, che noi che abbiamo per così dire rinnovato l'Associazione Exalunni grazie alla Banca di Credito Popolare abbiamo l'opportunità di mettere insieme tanti alunni e premiarli per la loro capacità, per la loro bravura e rappresenta io credo per il mondo in cui viviamo, anche un modo per capire che il merito viene riconosciuto e viene gratificato. Prossime manifestazioni in programma nei mesi a venire? Allora la prossima manifestazione vedrà come nostro ospite il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, il dottor Riccardo Sorrentino e poi avremo il premio giornalistico agli inizi di dicembre. La Banca di Credito Popolare vuole essere vicino con una borsa di studio che è simbolica, che premia l'impegno, la dedizione di questi ragazzi, delle loro famiglie e che contribueranno sicuramente a portare avanti anche la cultura della nostra città. Ma la Banca di Credito Popolare sede in un'altra manifestazione, la Settimana della Cultura. Oggi con questa manifestazione aperta ai giovani apriamo questa Settimana della Cultura avendo aderito a un progetto nazionale dell'Associazione Bancaria Italiana e di Banca d'Italia. Quindi apriamo il palazzo, ci saranno una serie di manifestazioni, non a caso abbiamo convolto i giovani, anche degli istituti degni che faranno una dimostrazione delle loro capacità nel settore della moda e poi saranno un po' da guida nel visitare il palazzo e il parrimonio artistico della banca. Nelle giornate del 12 e del 13 ottobre apriremo il palazzo alla nostra comunità, potranno sia vedere la lavorazione del corallo e del cammeo, ma anche visitare poi questo stupendo edificio di Palazzo Vallelonga che oltre ad essere la sede della banca è contenitore di un patrimonio storico, culturale, anche di una collezione di arte che noi gelosamente custodiamo sul nostro territorio. Ospite d'eccezione nonché ex-alumno, Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra e Presidente della Conferenza Episcopale della Campania, che ha sviluppato un'attenta riflessione sulla necessità di un patto collaborativo e di fiducia tra le nuove generazioni di studenti e il ruolo fondante del sistema scolastico. Quale scuola si consegna oggi ai ragazzi in un mondo di grande dispersione ma soprattutto di frammentazione dell'io individuale? La scuola oggi deve avere il coraggio di osare e di offrire una visione di vita e il liceo classico ce l'ha questa visione, è in grado di aiutare i giovani ad affrontare il presente e il futuro, purché i giovani da una parte diano fiducia, ecco, diano fiducia alla scuola, credano nella sapienza antica che viene loro trasmessa e dall'altra parte a condizione che la scuola faccia la scuola. Accenti di soddisfazione anche nelle parole della dirigente scolastica Letizia Spagnolo, che ha dato rassicurazioni sullo stato degli interventi di riqualificazione strutturali dell'edificio scolastico e sulla sorte futura del più antico liceo dell'area costiera. Un appuntamento annuale dove la scuola insieme all'associazione ex alunni ritiene fondamentale premiare le eccellenze e di riconoscere a questi alunni l'impegno, la costanza nello studio. Si prospetta sicuramente un anno di normalità perché i ragazzi sono già tornati nei turni ordinari e per quanto riguarda l'accorpamento per ora non c'è nulla all'orizzonte.